Bene, in questo video analizzeremo velocemente che cos'è un CMS, cosa sono i Content Management System ovvero brevemente quei siti già pronti che permettono di gestire del contenuto online quindi di creare dei siti in cui mettere il nostro contenuto senza occuparci troppo della costruzione del sito stesso e quindi che anche una persona non troppo esperta può utilizzare e implementare di modo da poter alla fine avere una sua presenza online di una certa quantità i CMS sono usati anche dai professionisti, infatti molte web agency li usano per i loro clienti adattandoli ovviamente si prendono in carico l'adattamento del CMS per quello che è l'esigenza di richiedere ai clienti questo non perché sia complicatissimo ma perché comunque è una mora di lavoro che appunto questi enti economici si assumono in cambio di una retribuzione allora vediamo subito, qui abbiamo tre loghi perché sono i principali CMS di cui andremo a parlare quindi Drupal, Joomla e Wordpress e questo è, prenderò come canovaccio una piccola tesina che ho fatto per un corso di programmazione in cui appunto tratto questi 3 CMS che potete trovare, scaricare questo piccolo testo dal mio sito di cui vi darò il link alla fine del video allora veniamo subito a parlare di che cosa sono prima di tutto dobbiamo analizzare il fatto che non tutti i CMS ma la maggioranza sono open source e quindi hanno la possibilità di essere modificati open source vuol dire che il codice è libero e aperto il codice di programmazione in cui è scritto il CMS e è possibile metterci le mani, diciamo così cosa che non capita a tutti la stessa cosa che vale per Linux che non è un CMS ma è un sistema operativo ma che non vale per esempio per un concorrente direttore di Linux che è Windows di cui il codice sorgente non è aperto e noi non possiamo publierlo molti CMS sono a codice sorgente aperto quindi possono essere visti come sono fatti fondamentalmente da chi conosce la programmazione i linguaggi in cui sono scritti è possibile modificare questo è un dato interessante perché permette un'implementazione ovviamente a un livello di una certa professionalità ovviamente non è magari di tutti fare o aver voglia di andare a modificare il codice quindi questo è un passaggio successivo che non è indispensabile perché di suo il CMS arriva già pronto a essere funzionante e ad essere modificato senza dover intervenire nel codice ovviamente chi può intervenire nel codice può fare delle modifiche molto più grandi e questo è quello che di solito fanno in parte le web agency o i professionisti altro punto, comunque questo era da dire che hanno questo codice aperto ed è possibile quindi vederlo altro punto molto importante di molti CMS è che hanno una licenza di tipo libero quella più usata è la GPL, cioè la General Public License che cosa vuol dire che hanno una licenza libera? che i CMS vengono dati appunto gratis, non c'è un pagamento i detentori del CMS, i detentori dei diritti di paternità morale sullo stesso lo rilasciano in maniera libera, cioè aperto a tutti e utilizzabile a tutti con a patto la principale delle licenze, la GPL prevede che il software debba essere se modificato rilasciato ancora sempre sulla stessa licenza quindi sempre libero e se il codice viene ad essere implementato, modificato attraverso del codice che in realtà invece non è libero il risultato finale, cioè la somma del codice libero la somma del codice che invece è proprietario deve continuare ad essere nel suo complesso un codice libero questo brevemente perché non ci vogliamo soffermare giuridicamente questo per far sì che cosa? che questi tipi di software man mano che vengono implementati, migliorati anche attraverso l'impegno di vari programmatori anche molto distanti da quello che l'ha creato continuino però ad avere in essenza la loro diciamo la loro gratuità la gratuità e la possibilità di essere usati da tutti senza avere un carico economico l'unico piccolo problema attinente a questo tipo di licenza è che non esiste una garanzia la garanzia non viene data e quindi il programma viene dato come funzionante ma in caso di malfunzionamenti o altro non c'è una persona su cui ribadversi quindi l'utilizzatore finale si prende in carico anche gli eventuali problemi con cui può discutere però ovviamente perché cosa succede piccoli errori di programmazione, piccole falle nel sistema eccetera sono inevitabili e capitano come anche nei linguaggi proprietari in questo caso esiste una comunità di programmatori che volontariamente per passione, per una filosofia di vita eccetera si impegnano a modificare e a correggere questi tipi di errori e a rilasciare nuove versioni liberate da questi tipi di errori da segnalare che il nome di questo tipo di licenza è detta copyleft per dissonanza da copyright diciamo un gioco di parole tra la parola right che vorrebbe dire destra in inglese e va bene passiamo subito a dire meglio che cosa sono i CMS allora come detto l'acronimo è Content Management System ovvero un sistema di gestione dei contenuti e più semplicemente è un sito già pronto che permette appunto di essere presenti online con una struttura già preparata in cui l'utente finale nei veri CMS puri più comodi non deve fra l'altro che pubblicare i suoi articoli le sue foto o il suo materiale senza preoccuparsi di quella che è la grafica o di quello che è il codice che sta dietro al buon funzionamento del sito l'idea di CMS è abbastanza vecchia insomma veniva usata una volta se giusto per dirlo veniva usata all'interno delle aziende per poter mettere in contatto il contenuto su dei server locali delle rete locali eccetera ma è evidente che l'enorme potenzialità è nata appunto nella possibilità di dare uno strumento complesso quindi con una molla di lavoro dietro una punta grande che non tutti si possono permettere perché una stessa ditta le stesse aziende che usano i CMS già pronti open source le usano perché questo taglia molto i costi di inizio di lavoro perché un conto è costruire un sito dal niente e un conto è trovare una struttura già pronta che si tratta solo di adattare quindi i CMS sono una soluzione tutt'altro che di basso livello utilizzabile sia dai privati sia dalle aziende come le web agency che hanno bisogno di un sito per loro oppure che devono vendere dei siti e dei clienti e però loro non vendono ovviamente il CMS loro vendono l'adattamento del CMS ovvero loro il CMS è gratuito l'azienda, il web agency o il webmaster professionale dà al cliente un CMS su cui ha fatto dei lavori e per cui si fa pagare velocemente i vantaggi e gli svantaggi del CMS come detto il vantaggio è che permette di tagliare i costi è veloce di usare i tempi e quindi uno si trova praticamente un sito già pronto che può nei limiti adattare le sue esigenze i limiti sono ovviamente che poi dipendono dal CMS al CMS in ogni caso il CMS nasce come pacchetto generico come sito generico e quindi non sempre come un vestito fatto su misura che non è questo il caso come se è un sito invece fatto ad hoc per un tipo di cliente il CMS non è un vestito su misura è un sito generico con questo ha tutti i limiti perché deve dare varie risposte e ha delle rigidità a volte che non sono del tutto adattabili alle esigenze particolarissime esistono vari tipi di CMS alcuni più specifici con delle caratteristiche molto mirate verso un tipo di target ad esempio ci sono i CMS che sono solo adatti a fare i negozi online oppure i CMS che sono solo adatti a fare i blog e così via più un CMS è orientato verso un particolare tipo di sito più è adatto solo a quel tipo di sito lì e in ogni caso comunque ogni CMS ha un target che ha dei limiti perché non esistono tanti CMS quante sono le esigenze dei siti quindi il limite generico del CMS è di essere una struttura già pronta che ha dei limiti proprio perché è standardizzata più o meno non è la stessa cosa che se uno fa un sito ex novo completamente cucito intorno al proprio cliente questo ovviamente è da ragionare perché nel momento in cui uno deve fare un sito molto 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 specifico in quel caso lì non conviene prendere un CMS e stravolgerlo completamente per renderlo simile a questa esigenza in quel caso lì conviene fare un sito completamente ex novo va bene la struttura generica del CMS il CMS è diviso fondamentalmente in due parti una parte cosiddetta front end che è quello che si vede online quello che sarà la parte visibile a tutti i navigatori perché sarà il sito come si presenta ed una parte back end cosiddetta o di amministrazione in cui invece l'accesso è limitato solo a chi può avere permesso di aggiungere materiale aggiungere articoli, foto eccetera o fare modifiche più o meno impegnative al sito appunto questa back end che è la zona di amministrazione in cui si possono fare varie modifiche si può aggiornare articoli modificarli mettere foto qui per esempio vediamo la back end di Joomla che è uno dei più famosi CMS attualmente disponibili questa è proprio una cosa molto veloce da vedere però abbiamo delle icone che possono farci accedere questa è l'amministrazione quindi possono farci accedere a varie settori di amministrazione in cui possiamo cambiare le immagini cambiare gli articoli così via dopo lo vedremo meglio in un sito apposito veniamo a parlare dei principali CMS come abbiamo detto quelli di cui parleremo di più sono Joomla, Wordpress e Drupal perché questi tre? questi tre perché sono quelli fondamentalmente più utilizzati voglio far vedere un grafico che secondo me spiega molto bene quello che sto dicendo e che è il grafico che parla della diffusione dei CMS a livello mondiale come siti come utilizzati per fare dei siti eccolo qua ci vuole un po' allora il grafico ci fa vedere questa barra qui più chiara è una barra che ci dice quanti sono sul totale la percentuale di utilizzo dei CMS sul totale dei siti esistenti quindi questo ci dice che il 78% dei siti nel mondo non sono CMS quindi diciamo che più o meno due siti su dieci sono CMS sono fatti usando CMS su questa statistica qui noi possiamo vedere che Wordpress sul totale dei siti mondiali rappresenta il 12% che vuol dire che un sito su dieci fa fu Wordpress per quanto riguarda Joomla abbiamo un valore di 1,3 e per quanto riguarda Drupal abbiamo un valore di 1,3 sul totale mondiale e poi a via scendere vbulletin typo3 3 blogger eccetera php bb e così via quindi non sono propriamente solo CMS sono altri tipi di CMS però vengono diciamo che nel in questo caso vengono realizzati tutti i CMS o CMS like cioè tutto ciò che è considerabile un CMS quindi anche forum blog propriamente detti eccetera l'altra barra questa qui più più scura ci dà la percentuale della presenza del CMS all'interno solo dei CMS cosa voglio dire che prendendo fatto uguale a 100 il numero dei CMS utilizzati nel mondo quanti di questi sono un tipo di CMS piuttosto che un altro allora su 12 CMS utilizzati il 56% è dato da Wordpress che vuol dire che un CMS su 2 anche un po' di più è Wordpress quindi Wordpress vince alla grande la 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 gara di più utilizzati poi abbiamo il 10% quasi 11 10,8 è usato da Joomla cioè una persona su 10 che usa CMS e sceglie Joomla e 6,3% sceglie la vedremo il perché dopo analizzando le le caratteristiche fondamentali dei dei 3 CMS fondamentalmente si può dire questo che perché Wordpress partiamo subito dal più usato perché Wordpress è il più usato Wordpress è il più usato perché è un pacchetto Wordpress nasce fondamentalmente come blog ma si è sviluppato sempre di più a diventare poi in effetti una CMS anche se ha delle piccole carenze rispetto agli altri due ha preso in esame in generale cioè non ha tutto per esempio l'ultima versione mi pare che ancora non abbia il modulo dei contatti ma debba essere installato in un secondo tempo quindi piccole piccole lacune piccoli vuoti rispetto all'ACMS appunto perché è più un blog rimane per quanto ormai sia abbastanza allargato ci sono caratteristiche altre plug-in che aumentano le potenzialità di Wordpress però è il più semplice dei tre e il più semplice è anche il più facile da utilizzare è fondamentalmente questo è il motivo per cui viene più usato perché è semplice nonostante questo ha la possibilità di essere molto implementato perché esistono le estensioni come in tutti gli altri CMS che ne aumentano le potenzialità le estensioni di Wordpress si chiamano plug-in sono scaricabili gratuitamente mi pare che si parla di gli AIA di plug-in adesso non ricordo esattamente quante ecco 17.000 dice Wikipedia inglese 17.000 plug-in disponibili per Wordpress che è una cifra che ci fa capire che è molto facile che quello che cerchiamo in Wordpress non lo possiamo trovare quindi dare al sito la funzionalità che ci cerca che noi cerchiamo probabilmente dal forum al carriero degli acquisti eccetera qui abbiamo una videata di quella che è l'amministrazione di Wordpress che come detto è molto più semplice di quella di Joomla e sicuramente molto più semplice di quella di Drupal in cui vediamo gli articoli le pagine i link eccetera dopo magari lo vedremo più specifico e velocemente come detto il fatto di essere più semplice non vuol dire che non sia un sito di qualità tant'è che se andiamo a vedere siti importanti fatti con Wordpress abbiamo il fatto quotidiano che è fatto con Wordpress basta andare vedere il codice sorgente e troverete i codici di Wordpress dietro o per esempio il blog inglese della Playstation sempre fatto con Wordpress quindi interessante da questo punto di vista velocemente il Wordpress ha vinto dei premi tra l'altro attualmente ha vinto il Open Source Web Application quest'anno quindi è stato riconosciuto comunque come un ottimo strumento va considerato come tale passiamo adesso a Joomla Joomla è probabilmente il più classico di CMS perché è il più generico di questi tre che stiamo vedendo perché fondamentalmente è la cosa più adatta sia per fare un sito generico che per fare un blog nei suoi limiti che per fare un sito di un negozio e così via a nacque da una biforcazione da un sito originario che era Mambo nel 2005 mi sembra Mambo poi è come dire è naufragato il progetto si è fermato mentre Joomla ha continuato a crescere i siti sono in Italia sono per scaricare il pacchetto per prendere nuove informazioni eccetera Joomla.it le estensioni le estensioni di Joomla sono molte sono distinte in tre categorie principali questo può sembrare che sia una complettività rispetto a WordPress ma non è esattamente così è solo che il materiale di estensione di Joomla è stato diciamo diviso in tre categorie a seconda di quelle che sono le funzionalità fondamentalmente abbiamo i contenuti i componenti i componenti scusate i componenti i componenti che sono vere e proprie parti di sito che possono andare a ingrandire il sito con nuove funzionalità per esempio il carrello degli acquisti è un component e così via quindi forum eccetera questo per esempio abbiamo qui un esempio di carrello degli acquisti di Joomla che è una pagina a se stante con i prodotti i prezzi eccetera poi abbiamo i moduli che sono fondamentalmente delle parti del sito che portano delle funzionalità particolari e che consentono di interagire per esempio con quello che è il contenuto del sito per esempio questo è un modulo che permette di ricercare all'interno del carrello degli acquisti un prodotto sincrono il modulo è anche il modulo di login o un formino per esempio un modulo per fare dei sondaggi online eccetera quindi fondamentalmente i moduli sono questi delle parti della colonna che danno la possibilità di interagire tra l'utente e quello che è il prodotto molte volte infatti molti contenuti si appoggiano a dei moduli per poter lavorare infine abbiamo i plugin che sono delle parti di codice fondamentalmente che lavorano in back-end quindi non sono visibili in esterno e che servono a potenziare il sito ad esempio un plugin molto importante molto utile quello che trasforma la finestra di scrittura del Joomla dei nuovi articoli eccetera di quello che andremo a mettere come contenuto in una specie di Word che è fck editor è un esempio di plugin come questo ce ne sono molti altri che vanno a potenziare il codice in vari modi secondo le esigenze riconoscimenti attualmente nel 2011 il best Joomla e best source content management system in aduar vedere alcuni siti fatti in Joomla per vedere che è un CMS di tutto rispetto non disdegnato neanche dalla pubblica amministrazione il sito della regione Calabria è in Joomla il sito dell'open data dell'Emilia Romagna è recentissimo in Joomla e qui abbiamo un sito generico di una scuola online che è scolastica che è in Joomla andiamo a vedere rapidamente adesso l'ultimo dei nostri CMS ovvero Drupal a livello di curiosità Joomla è una parola mi pare suahidi o comunque africana che indica tutti insieme per dare l'idea del progetto che doveva essere condiviso diciamo doveva essere un progetto distribuito tra vari impegni tra vari programmatori che lavoravano insieme solo per curiosità mentre Drupal che vediamo qui è un progetto il cui nome è una compenetrazione di due parole olandesi Dorp e Drupal Dorp è villaggio Drupal e goccia capiamo che il villaggio c'è probabilmente un riferimento al villaggio globale e Drupal invece forse un riferimento a navigare in internet non lo saprei nemmeno io fatto sta che goccia è rimasto il simbolo che rappresenta Drupal la struttura di Drupal fondamentalmente ha come sempre un core un nocciolo di struttura che ci fa un po' la sfida dorsale del sistema con delle tensioni che sono tutte raggruppate in un unico nome che sono i moduli questo può sembrare che porti Drupal a essere più semplice di Joomla e di WordPress ma non è così in realtà Drupal è il più complesso dei tre il più complesso perché nasce più semplice è anche più leggero di Joomla per esempio a livello di installazione quando si scarica il pacchetto ma questo solo perché per un discorso di modularità cioè la possibilità di adattarlo molto bene alle proprie esigenze si è deciso di tenere molto snella l'installazione originale su questa installazione poi possono agire questi moduli come abbiamo detto che vanno a modificare la struttura di Drupal in maniera variegatissima e anche qui possiamo installare dei carini per l'acquisti piuttosto che magari simulatori di siti di social network eccetera l'installazione dei moduli in Drupal è un po' più complicata perché Drupal nasce come una struttura più professionale e quindi a volte c'è la richiesta comunque di installare moduli prima di altri perché sono proprio deutici al funzionamento di altri nell'installazione può darsi che ci sia la necessità di intervenire nel codice del CMS Drupal nel complesso è appunto più complesso perché anche la logica stessa con cui è costruito si suole definire che ha una curva di apprendimento per adattarsi alla struttura impararla a usare bene eccetera più difficile più lunga più lunga di quello che è Wordpress e anche Drupal questo forse è il motivo per cui è meno diffuso degli altri due perché come CMS è ottimale ha anche ottime velocità di accesso ai dati ha una sicurezza maggiore rispetto a Joomla e a Wordpress a livello di hackeraggio eccetera resta il fatto che appunto è un prodotto più professionale quindi richiede più impegno anche più capacità perché a volte appunto si tratta di conoscere un po' di codice in cui è scritto dove in Joomla e in Wordpress non è mai necessario sapere codice PHP o altre cose o HTML stesso perché si può lavorare benissimo senza sapere l'indrupal questo a volte può rendersi necessario invece anche se nel tempo le varie installazioni si sono semplicate molto come detto ci sono pochi moduli presenti che fanno veramente le principali funzioni quindi si può essere i commenti partecipare a un forum sondaggi eccetera sono già attive ma sono molte di più ovviamente i moduli da installare in un secondo tempo che danno la possibilità di creare un sito a 360 gradi gallerie fotografiche creare gli acquisti eccetera quindi come detto l'unica cosa ecco interessante per curiosità proprio perché qui esiste questo pregiudizio anche un po' legittimo verso Drupal e che ho notato che c'era un altro video che faceva un po' da tutorial per Drupal che si intitolava chi ha paura di Drupal e questo si capisce bene fa un po' il verso al fatto che non è così intuitivo e un po' spaventa nella sua complessità non è ovviamente un pacchetto facilissimo da usare è un sito è un CMS di ottima qualità ha vinto l'open source CMS award negli anni 2007 2008 e 2011 ed è usato da siti veramente prestigiosi non ultimo con il sito della Casa Bianca il sito della Creative Commons il sito italiano non italiano il sito internazionale dell'Ubuntu che è un'installazione di Linux quindi si vede che viene considerato da enti non solo famosi ma anche molto professionali e poi per esempio qui abbiamo anche il sito del New York Observer quindi anche giornali prestigiosi questo per quanto riguarda Drupal velocemente si può parlare un attimo degli altri CMS perché ce ne sono effettivamente altri che è giusto almeno citare esistono questi tre sono tutti in PHP questi che abbiamo appena analizzato esistono però CMS in altri linguaggi uno per esempio è AspNuke un sito un CMS piuttosto anziano se vogliamo e anche molto semplice scritto in Asp normale non Asp.net che si appoggia per esempio sul database access quando la maggioranza dei CMS ovviamente si appoggia alla database MySQL perché è più performante eccetera però c'è da considerare che se una persona non ha un server o non ha il servizio MySQL sul proprio server la soluzione Asp è una soluzione che permette anche di rispermiare o comunque di utilizzare dei server senza MySQL il database access risiede insieme con gli altri file del del CMS Asp Lone è un considerato un ottimo un ottimo CMS è scritto in linguaggio Python .net nuke è un altro CMS abbastanza famoso scritto in Asp Net che è il linguaggio della Microsoft Open CMS scritto in Java infine da citare come curiosità è Gico che è un CMS scritto tutto in JavaScript una cosa molto strana perché ovviamente essendo un linguaggio client può risultare non so come vengono risultati i problemi della sicurezza delle password eccetera o degli accessi al database però questa curiosità va segnalata che esiste un CMS scritto tutto in JavaScript velocemente i vari tipi di CMS solo per sapere quali sono e quindi cosa cercare se uno ha esigenze particolar ci sono i più forse i più gettonati a parte i CMS genetici sono i cosiddetti LMS i Learning Management System cioè quelli che servono per fare praticamente le scuole online o comunque creare delle piattaforme di studi online per i cosiddetti FAD ovvero formazione a distanza che ormai sempre più scuole utilizzano anche le università i più famosi sono Moodle e Docemo tutti e due in PHP tutti e due usano MySQL un altro settore che è molto importante è l'ISMS ovvero Store Management System che sono praticamente i siti fatti per essere negozi online i due più usati sono ZenCart e OpenCart anche se sono molti di più questi però sono quelli più usati e quindi avranno sicuramente una qualità maggiore degli altri velocemente gli altri tipi di CMS sono i Wiki che conoscerete tutti sono quelli che hanno la forma un po' di Wikipedia quindi permettono di condividere vari contenuti in maniera molto diffusa con la possibilità di essere gestiti da molti utenti i PMS non sono propriamente dei siti quindi cito solo per dovere di cronaca sono i Project Management Software sono software dedicati alla gestione di impresa quindi sono un po' particolari gli GMS invece che sono abbastanza utili a tutti sono i CMS per gestire delle immagini online quindi fare le galletrie eccetera i CMS sono diventati ai blog quindi potremmo chiamarli i BMS anche se non esiste proprio una sigla esattamente così di cui forse il più famoso è Wordpress di cui abbiamo parlato anche se Wordpress ha una gamba tra i BMS e una gamba tra i CMS i FMS che sono i forum praticamente i più famosi sono PHP BB di cui abbiamo visto che proprio PHP BB è nell'elenco dei più CMS più usati mi pare il settimo ottavo se non ricordo e MyBB che è il più semestero usato vediamo dove è PHP BB è quello qua allora abbiamo 1, 2, 3 4, 5, 6 settimo settimo fin di lato e poi abbiamo i CMS i cosiddetti light ovvero quelli che funzionano senza un database perché in genere si appoggiano a semplici fai di testo cioè salvano il contenuto in file del XT è un esempio abbastanza conosciuto è GetSimple CMS questo è l'elenco generico dei CMS i riconoscimenti segnalo appunto che esistono vari riconoscimenti tra cui forse uno dei più famosi è quello che viene dato dalla casa editrice PAC Publishing che nell'ultimo anno il sito sull'ultimo anno ha premiato Drupal come principale primo open source CMS quindi liberi cioè condice aperto CMS il Drupal è il primo il secondo 3 mi è stato dato a Joomla il terzo è stato dato a Moho Portal credo si lega allo spagnolo il quarto è Plon di cui abbiamo parlato è il SID della Stripe che sinceramente non conosco molto bene ma si possono anche andare a vedere ma qui se volete vi ripilo velocemente le mie conclusioni ovvero che tutti e tre sono abbastanza buoni Joomla e Wordpress sono abbastanza più simili quindi sono abbastanza intercambiabili Drupal può essere utilizzato allo stesso maniera per lo stesso progetto ma è quello che si scosta un pochettino di più dagli altri due proprio perché è più professionale quindi fondamentalmente richiede un po' più di tempo per essere gestito quindi più di tempo per imparare segnaliamo che Wordpress resta un CMS più adatto a progetti semplici non necessariamente con poco contenuto si vede ad esempio di giornali online fatti con questa piattaforma perché è in sostanza il più intuitivo e nello dei tre CMS Joomla è il più generalista dei tre si è adatta forse meglio alle esigenze generiche dal giornale online al sito di e-commerce alla piattaforma di una pubblica di distrazione ha molti strumenti già pronti il suo pacchetto di download infatti è più pesante cioè mi pare che sia sui 7-8 MB adesso non vorrei sbagliare e ha moltissime estensioni aggiungibili e l'assistenza online è molto buona forse la migliore o la più grande anche nella grafica di presentazione Joomla è insieme con Wordpress dotato di ottimi template cioè la grafica che noi vediamo già pronta di vario tipo e poi presenta la possibilità di andare a modificare abbastanza facilmente o creare proprio ex novo interi template quindi anche da un punto di vista grafico che forse è una cosa che può servire molto a certi tipi di siti è molto buono il gruppo è meno diffuso perché è un prodotto più di nicchia come abbiamo detto come dice la sua definizione è un CMS ma anche un FMS dove F sta per framework con ciò si intende una struttura di base altamente adattabile ma più complessa e professionale che non manca di avere delle complicatezze e scommidità per gli utenti meno esperti sia nell'operazione di personalizzazione sia nel momento della gestione si può usare Joomla e Wordpress senza conoscere nessuno dei linguaggi di internet senza grandi problemi con Drupal invece l'uso del codice è parte anche di una normale amministrazione quindi senza essere proibitivo Drupal richiede più pazienza appunto la curva di apprendimento nell'utilizzo di Drupal è un po' più lunga anche se poi ovviamente ripaga con una maggiore adattabilità sicurezza contro attacchi e senza di baghi di sistema quindi questa è velocemente il fotografia in generico del nostro di questi tre CMS velocemente vi segnalo anche se ce n'è più di una io segnalo un sito in particolare che permette di permette di visionare questi tre CMS ma anche altri online direttamente sia per quanto riguarda il front end sia per quanto riguarda la parte il back end cioè vedere come funziona l'amministrazione il sito in questione si chiama PHP Open Source CMS adesso vi faccio vedere meglio l'indirizzo ecco vediamo qui il sito php.opensourcecms.com in cui appunto possiamo andare a vedere queste demo già pronte provare i vari tipi di CMS sia appunto come ho detto nel front end che nel back end vediamo che qui nel menu abbiamo la distinzione tra i vari tipi di CMS come abbiamo detto ci sono i light i forum i blog i e-commerce eccetera oppure tutti quanti se noi andiamo per esempio nei CMS classici abbiamo 141 sono in ordine per dalla la z ma l'ordine può essere cambiato anche vedendo qual è ovviamente il sito in inglese i più votati dal migliore al peggiore dal peggiore al migliore gli ultimi modificati vabbè questo non credo che ti interessi molto oppure i più quelli che hanno un voto migliore dal migliore al peggiore quelli che hanno un voto migliore dal peggiore al migliore vediamo quello che è stato votato meglio di tutti tra i CMS ovviamente come vedrete questo può avere un po' un limite perché la media dei voti è altissima ma è stato votato solo da 10 persone il giudizio non ha un grande valore qui vediamo per esempio che questo sito è stato votato da 9700 persone ed ha una media di 4 stelle e qualcosa e il CMS in questione è giunto sotto abbiamo un sito che è stato votato per 3200 sempre un'ottima posizione di 4 stelle ed è concrete 5 per esempio vediamo che Drupal 7.7 la versione è stato votato 16.000 16.000 volte ed ha un ottimo punteggio questo lo rende comunque molto interessante perché è vero che è un voto leggermente minore di questi però come vediamo è una media su una quantità di votanti molto alta abbiamo subito ecco qua WordPress che è comunque stato votato solo 2300 volte ma ha un ottimo percento di voti vediamo velocemente quindi qui c'è un po' strada di navigare e vedere però c'è un'ottima feedback di voti di giudizi che va tenuto in considerazione come vediamo alla fine tra i migliori siti CMS abbiamo i 3 di cui abbiamo parlato vediamo come funziona la la demo diciamo che ci viene fornita entriamo in Joomla in questo caso abbiamo l'ultima versione che è 1.7 scendendo abbiamo due possibilità vedere la main page apriamo in un'altra finestra l'admin page che l'apriamo in un'altra finestra ovviamente la main page ci fa vedere come intanto che si carica e aspettiamo la main page ci fa vedere come il sito in front end cioè come si presenta Joomla quando noi abbiamo ad aprirlo la linea è un po' lenta ma adesso ci dovrebbe farle vedere e ovviamente abbiamo una per poter entrare nell'amministrazione abbiamo un username e una password che ci vengono date che ci permettono per circa 20 minuti mezz'ora circa di fare tanti lavori fare modifiche fare prove senza rischio di fare niente di male ogni mezz'ora il sito viene completamente azzerato e si riparte da capo quindi tutto ciò che mettiamo viene cancellato perché giustamente questo permette di far lavorare varie persone senza che il sito si riempa di spamming o di esperimenti eccetera nonostante questa è una cosa molto comoda ecco qui vediamo un esempio di Joomla 1.7 appena installato quindi con il materiale rimpio abbiamo l'articolo altri due o tre articoli il menu laterale eccetera questo è come si presenta Joomla nel front end qui abbiamo invece entriamo con le password che ci vengono date abbiamo il back end in cui possiamo entrare un secondo non ci dipendiamo a passo se non ci interessa quindi vediamo il pannello amministrativo di Joomla appunto con le varie icone che permettono di accedere alle varie sezioni per aggiungere articoli cambieremo configurazione del sistema cambieremo le lingue eccetera eccetera per questo per conoscere meglio l'amministrazione di Joomla vi rimando al mio video sulla installazione e gestione di Joomla nel particolare questo vale anche per gli altri due CMS per quanto riguarda questa confrontazione dei tre CMS che sono più diffusi e tutto vi rimando se volete vedere il testo di questa presentazione su un pdf vi rimando al mio sito che è andrecisanel.it vi ringrazio per la visione e alla prossima e alla prossima